buongiorno 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 a tutti voi buongiorno oggi è lunedì, ho il giornalamento del lunedì e fra un po' vado a lavorare con tutti i cazzi e mazzi un attimo ragazzi grazie per chi ha fatto gli auguri alla mia bambina sabato ieri non ho registrato ho solo giocato quindi il video di ieri è stato registrato venne sabato se non erro allora ragazzi hanno messo Van Buster Bustato David Villa Bustato e Paolo Sergio anche ieri l'unico giro che ho fatto di Beckenbauer non me l'ha dato ragazzi devo essere anche abbastanza veloce perché non so neanche se domani c'è domani ma probabilmente non registro teniamo sempre premuto non li para mai ieri sono tornato a giocare con la squadra Super Saiyan ragazzi dopo lo schifo che sta succedendo in questi giorni ragazzi il gameplay fa cacare ragazzi fa cacare chi è top 2 no top chi è stato top 100 ragazzi si trova in divisione 2 parliamoci chiaro fa cacare i vermi il gameplay ragazzi fa cacare i vermi c'è un po' di pensieri ragazzi perché la situazione familiare si è aggravata quindi gioco per staccare io non ho vizi ragazzi né fumo né bevo né non ho vizi niente non mi va neanche più di vedere partite ragazzi quindi ogni tanto prende gioco qua e stacco il cervello un po' dai problemi seri che sto avendo ragazzi io ho fatto pure quest'attività 20 ragazzi però non mi dà qua devo fare per forza quello contro con ragazzi io li ho fatti tutti mi mancano questi qua devo fare per forza evento sfida scuola segna gol dove cazzo mi porta te ne fa due giorni porca troia porca troia ma questo è online contro con c'è che posso scegliamo pure ah in base di gp non mi interessa ah in base gp e chi se ne frega di gp credibile c'è sempre per due danno vabbè vabbè come li ho fatti ragazzi ci ho dimenticato porca troia e questi li ho fatti vabbè tanto che cazzo mi deve dare i mortacci sua niente ragazzi ho messo questo qua che è un animale questo ha delle statistiche tremende io ce l'ho ma non bussato poi david viglia venticinque anni questo quando giocava nel e dove nel valenza e palo sergio non so che cazzo c'entra nel bayermon vabbè giriamo perché in ballo tanto non me lo darà ne abbiamo girati 20 cioè ne mancano 29 ragazzi come cazzo l'avete fatto voi a prenderlo capocchia raga che bagaccia con che bagaccia contro contro devo scappare a lavorare non me lo darà eh raga lo so che è un animale non basta sono sincero ma come faccio come faccio cioè ve lo faccio vedere quello che ho io un po' giù parecchio giù adesso qua è opportunista quella te la pace d'aria è un animale quell'altro però però vabbè dai non c'è un però raga e abbiamo finito non c'è più niente aia guardate il server benissimo con A ottimo con A andiamo bene con A la bambina sta festeggiando con i bambini alla Siva bene o male vabbè ragazzi che cazzo vi devo far vedere il back and forth non me lo da ci sono altri metodi per prendere le pescate raga qualcuno mi sa dire io li ho fatti tutti eh eh sì questo è quello che boh vabbè non me lo da dai non fa niente allora ragazzi io poi ho giocato con la Super Saiyan e questa è la situation 1423 punti guadagnato 100 punti ragazzi così con questa con tattica secondaria così individuale ho messo ancora su Lumenic offensivo su NED linea tecnologica le cose tattica secondaria così da oggi voglio vedere sinceramente il marcolino quanto lo danno sul accento lo faccio per vuoi lo faccio per vuoi vai saluto Alessandro Game un abbraccio anche se sei un prescritto Lele Ken o Gianluca o Lellinio come li potete chiamare Stefano avrei tanto da dire ragazzi come avete notato non ho fatto le live questi giorni avrei tanto da dire ragazzi però ho tanti problemi ragazzi voi ne immaginate tanti problemi mi rifugio in divisione 2 in football nelle castello ragazzi che cazzo mi da divisione 2 sbara divisione 1 cioè proprio popsi bagasco non ha popsi macchina da merda si proprio i numeri i numeri minchia appetito come sto minchia dita questa minchia maldita come sto io lascio il mondo come ragazzi mi prendrà palonate questo garantito ragazzi se non registro a me gira bene se registro a ieri resettare resettare riavviare il modem ancora fosse lui il problema sinceramente poi ho fatto zero sconfitta però che vedevo di è così tu io il matchmaking ragazzo l'hanno sminchiato di nuovo non è giusto cioè non perché non devo trovare divisione di 2 ma io sono ancora in 3 cioè non è normale sto fatto guarda il passaggio come glielo ha fatto l'ha incredibile guarda il passaggio va che vedevo che vedevo marco vabbas bello no ragazzi c'è io le monete ma non li vado a girare ragazzi sincero ragazzi è veloce pure questo marco non basta per me l'attaccante più forte della storia del calcio fino a quando ha potuto giocare ha vinto tutto che rimangava solo il mondiale che cazzo fa sbagli con la nostra porta questo incredibile vabbè come dovrei segnare a questo ragazzi ditemi voi questo è un tiro un gol farà via ma via dove ragazzi sto bevendo la medicina tra l'altro venga a scoprire gente che in questi anni non ha fatto altro che passassi le partite e far vincere le partite ragazzi cioè che cazzo vado a sentire io ok avevo una certezza no cioè avevo una qualcosa ma così no è proprio scadaroso il calcitano non li devo battere più e poi si rischia di prendere il gol questo è il gioco incredibile e dai ma perché lo devo prendere il gol e dai ma non è giusto niente raga ma incredibile oh ma perché neve se ne andà voglio ma perché funziona così perché il gioco deve andare così perché tu di mattina mi devi farci incazzare perché Cristo santo non è normale cioè non è normale ma 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 è normale secondo voi grazie a tutti 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 mi avete rotti i coglioni turchi di merda che palle che siete ovunque peggio dei giapponesi grazie a tutti 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 turco di merda e questo tu te ne pare minchia non sfora uno grazie a tutti 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 turco che grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti italiani grazie a tutti 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 di Marco grazie a tutti 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 grazie a tutti